Teo Valestrini, rappresentanza dell'Admo, presentaci un po' questa associazione sul territorio. L'Admo è l'associazione donatori midollo osseo, praticamente noi stiamo cercando ragazzi tra 18 e 35 anni che siano favorevoli ad iscriversi al registro donatori midollo osseo. Stiamo facendo un lavoro importante sul territorio, stiamo cercando di coinvolgere tutte le squadre, tutte le attività sportive, tanto che oggi siamo qui proprio per presentare questo legame che si sta creando con Elvia Recina Calcio. Il 15 novembre ci sarà poi un evento che avete organizzato voi al Teatro Lauro Rossi, che vedrà coinvolto e invitato ovviamente tutta la cittadinanza, chi vorrà partecipare e le società sportive coinvolte nel progetto. Due personalità importanti che vi daranno una mano a piccolare questo messaggio come Marco Meoni e Massimo Giovannelli, dunque una serata importante per promuovere il messaggio dell'Admo. Sì esattamente, saranno con noi appunto Giovannelli e Meoni, che sono dei nodi sportivi anche a livello nazionale. In quella serata ci saranno anche la dottoressa Zoli, che è la responsabile del registro nazionale per quanto riguarda la regione Marche, che darà tutte le informazioni necessarie ad iscriversi. Ci sarà il nostro presidente, anche lui darà informazioni su quello che è Admo. Presidente Alberto Crocioni, siamo qui per presentare questa sera l'accordo come partner etico dell'Elvia Recina Calcio da parte dell'Admo. Come siete stati coinvolti in questa iniziativa di questa importante Ollus Maceratese? Quali sono i termini di questo, chiamiamolo, accordo tra le due realtà? Abbiamo accettato volentieri questa iniziativa dell'Admo, anche perché conosco bene Riccardo Sbaffi, che è di Villa Potenza, quindi tifoso anche dell'Elvia Recina e tutto quanto, perché è un'iniziativa molto valida anche a livello morale, siccome abbiamo anche il settore giovanile, quindi volentieri a fare queste cose come società sportiva. Bisogna capire che c'è bisogno per tutti e quindi siamo veramente lieti, lo portiamo questo messaggio anche a livello sotto la giovanile, quindi grazie a tutti, veramente lieti di far parte di questa associazione.